Ciao a tutti, oggi è il 13 agosto 2023, sono qui con Fabio nel podere di Francesco vicino a Mantua e stiamo innestando degli agrumi. Fabio è esperto e sta innestando degli agrumi e allora facciamo un video dove ci fa vedere come innesta questi agrumi. Vai Fabio! Abbiamo preso un rametto, un paio di marze, questo qua è una specie di pompelmo, è un po' spinoso, adesso lo ripuliamo perché noi ci saranno solo le gemme e faremo un innesto a gemma e quindi tutta questa roba qua la tiriamo via. Partiamo dalle foglie e tiriamo via anche le spine. Poi di gemme dormienti qua ce n'è qualcuna, qualcuna più grande, qualcuna è più piccola, qualcuna è una spina. Adesso vediamo un attimo come pulirlo prima e poi e poi dopo vediamo cosa trovarci. Una pianta molto spinosa, non tutti gli agrumi sono spinosi, alcuni sono più spinosi, alcuni sono meno spinosi. Importante allora quando si raccolgono questi rami qui, noi abbiamo scelto dei rami un po' vigorosi perché sotto all'ascella fogliare c'è sempre una gemma di solito, qua si vede poco però ci sono delle gemme. Queste sono gemme dormienti quindi ci metteranno un po' a uscire poi dopo. È un tipo di innesto che si fa in estate, adesso siamo un po' fuori periodo però a volte prendono, quindi proviamo comunque a farlo. Allora, prima cosa, allora io vado a guardare qua, in realtà di gemme sì, ce n'è qualcuna qui, qualcuna qua. Sì stiamo guardando un attimo, qualcosa c'è, molto piccolo però c'è. Quindi allora cosa facciamo? Prepariamo un attimo quella che voglio scegliere, la rifino un po' meglio perché c'è queste spine enormi e poi cosa si fa? Allora, in pratica cosa andrò? Andrò a tagliare il legno in questa direzione da sotto verso in alto e separerò questa porzione qua di legno e la andrò a mettere poi in una cavità che faccio. Si farà un taglio longitudinale con una T. Di solito si può fare sia in basso che in alto, io la farò in basso perché sono più comodo in basso poi dopo uno può scegliere anche di farla in alto, dipende da uno come è abituato. Il taglio in alto un po' ricorda forse l'apertura del taglio a corona però nel taglio a corona viene tolto completamente il lastone. Quindi adesso io preparo due o tre punti dove penso di poter mettere la gemma. Allora, io cerco sempre di lavorare un po' con gli strumenti puliti quindi prendo un attimo un po' d'alcol per dare una pulita tanto per essere tranquillo che non mettiamo altri batteri in più di quelli che già ci sono quindi do un po' una pulita anche sul tronco Ok, quindi allora la prima cosa che faccio è preparo il taglio quindi cosa faccio? Vado giù, un po' dritto e poi lo apro sotto quindi taglio a T rovesciata Ok, poi bisogna chiaramente sollevare la corteccia si può usare anche la parte di questi coltelli fatta così questo non è molto pulito andiamo pulita Ok, quindi si può sollevare un po' il lembo di corteccia Allora, perché si fa in estate? Perché in estate la corteccia si solleva più facilmente questa è cosa nota e risaputa Quindi adesso io cosa vado? Vado a prendere quella che reputo una gemma più o meno interessante faccio il mio taglio lo farò dall'alto perché forse è più pratico bisogna stare un po' attenti perché questa è la maniera di tagliarsi Ok, quindi abbiamo staccato la parte con la gemma adesso qual è la cosa importante? Riuscire a prenderla perché se ti cade nella terra hai già buttato via in pratica la gemma quindi io cosa faccio? Perché ci ho lasciato picciolo e un pezzo perché così riesco a tagliare la parte finale che sta un po' spessa purtroppo perché eravamo fatto così Ok, ce l'abbiamo più o meno Ok Quindi adesso c'è la gemma la sagoma un attimo in realtà potrebbe già andare bene così però sagomiamo un po' il lato Ok anche da questa parte e noi vado a infilare dove ho fatto il taglio quindi infilo alzando la corteccia Ok così la infilata sta ferma abbastanza perché è trattenuta ai lati io in teoria potrei andarla anche a infilare sotto qua perché qua se avete visto c'è una specie di punta no? questa può aiutare a infilare sotto quindi così va abbattuta diciamo sta più ferma e poi a quel punto qua io posso cominciare già a tirare col nastro il nastro è il nastro col parafilm io preferisco questo perché è più adatto però si può fare anche col polietilene o lento allora cosa faccio? ne taglio intanto un pezzettino perché sennò diventa poco agevole a lavorarci e poi dopo si può stirare perché questo è molto elastico quindi se si stira così si allunga mi aiuta a fermare allora gli si dà prima un giro in basso e poi una volta che è tenuto si riesce a stirare e io continuo a girarlo e salgo piano piano quindi facciamo un giro un altro giro anche se la gemma un po' si sposta non è un problema perché tanto io poi la tengo premuta e poi comunque si penserà anche il cambio a legare lì è una zona molto vascolarizzata molto ricca comunque non dovrebbero esserci grossi problemi in questo genere il nesto cos'è che si fa? allora si va a chiudere tutto perché chiudendo tutto così si sigilla diciamo la ferita completamente non c'è scambio di liquidi quindi anche se fa molto caldo per la pianta qua è come se ci fosse di nuovo la corteccia e a questo punto non essendoci più perdita di liquidi riesce comunque a sigillare la ferita senza problemi l'importante è che non secchi quella parte lì perché se secchi invece non riesci più a saldare le parti come il cambio appunto con quello della gemma quindi questo un po' è tutto adesso ne faremo magari un altro paio metteremo un altro paio di gemme un po' più in alto se ne facciamo diverse magari prepariamo anche un attimo teniamo via queste spine un po' grosse che ci rendono meno agevole il lavoro che un attimo bucarsi con queste questo qua è un portinnesto che è un portinnesto da grumi è uno swingle probabilmente è uno swingle che ha due o tre rami li si lasciano poi dopo in un secondo momento quando si vede che la gemma è un po' appreso si può anche dare una puntata già adesso però magari è meglio fare in un secondo momento quando si vede che la gemma è un po' appreso dopo si taglia si taglia la parte di ramo che non servirà più che è la parte appunto dove non ha preso la gemma per il momento la lasciamo non è un grosso problema se la gemma prende poi getterà magari tra un paio di mesi e questo è più o meno tutto io e Fabio vi ringraziamo grazie per aver visto questo video se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di Telegram dove trovate me e Fabio più che altro Fabio perché io non sono tanto esperto che vi può rispondere alle vostre domande se avete dei chiarimenti eccetera io e Fabio vi salutiamo grazie mille ciao a tutti ciao 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 ciao